Se arriverà, lo speriamo tutti, quella promozione in Serie D, la cosa si fa difficile perché non potete giocare a Civitavecchia al momento. Assolutamente, è chiaro che il progetto sportivo va di pari passo. Noi quest'anno abbiamo fatto degli investimenti importanti sulla squadra, poi al di là che improvvisamente l'aspetto tecnico di questo campionato si è innalzato in maniera molto decisa rispetto all'anno scorso, dove forse lì è stata la vera occasione persa dalla mia gestione. Io ho più rammarico per l'anno scorso, per la stagione che stiamo vivendo, onestamente. È chiaro che quest'anno, come dicevo, abbiamo fatto dei sforzi importanti perché in una conferenza stampa al Comune, in una conferenza stampa, mi sembra, nella sede di Forza Italia, se non erro, erano state manifestate questa apertura del Comunale a marzo, marzo 2024. Noi abbiamo sempre pensato che con tutti i ritardi che ci potevano stare, burocratici o di lavori di aspetto tecnico, comunque per settembre 2024 ci saremmo stati. E quindi immaginavamo di poter fare la stagione 2024-2025 al Fattori e abbiamo costruito una squadra importante. Questo non è avvenuto, questo non avverrà perché siamo a marzo, ripeto, e da quello che ho visto, da qualche video che ha girato, al Fattori è praticamente come era nel 2018, soltanto hanno fatto qualcosina sugli spogliatoi e basta. E' chiaro che il prossimo anno il Civitecchia non può fare una squadra per cercare di fare il salto di categoria, per quello che dicevi tu, perché non ha un impianto, perché non ha lo stadio giusto e sinceramente portare come è successo in passato il Civitecchia fuori da Civitecchia, quantomeno non è il mio nome, ecco, non è il mio nome.